Cambiano i vertici al Palazzo di Giustizia di Palermo. Il nuovo presidente del Tribunale è Salvatore Di Vitale, attualmente presidente di sezione della Corte di Appello. Nominato all'unanimità dal plenum del CSM, succede a Leonardo Guarnotta, mentre il nuovo presidente della Corte di Appello è Gioacchino Natoli. A Catania, invece, è stato nominato Salvatore Scalia come procuratore generale. In magistratura dal 1976, Di Vitale ha cominciato la carriera come pretore a Marsala. Da quasi 30 anni lavora a Palermo, dove è stato prima sostituto procuratore, poi consigliere della Corte di Appello e in seguito presidente di sezione del Tribunale. Dal 2010 è presidente di sezione della Corte di Appello. Natoli, invece, è entrato in magistratura dal 1978. Nel 2005 è stato nominato presidente di sezione del Tribunale di Marsala, dove dal 2011 ad oggi ha anche rivestito il ruolo di presidente del Tribunale. Ex vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, ha cominciato la carriera come giudice al Tribunale di Trapani e poi in quello di Palermo, prima di passare alla procura del capoluogo siciliano, dove è rimasto finché nel 1998 è stato eletto componente togato del CSM. Da giudice istruttore, indagato sugli omicidi di Piola Torre, Pier Santi Mattarelli ha fatto parte del pool antimafia di Giovanni Falcone, raccogliendo le dichiarazioni dei primi pentiti di mafia.